In questi giorni e questa sera c'è da fare un focus sugli obiettivi che poi il borsino cambiano molto sul laterale perché abbiamo detto che sostanzialmente se ci sarà un'operazione in entrata più facilmente sarà sul laterale sinistro in caso di partenza di Gosens piuttosto che riuscire a chiudere l'operazione Marcos Turam che non è che noi l'ammazziamo definitivamente però per il momento resta sullo sfondo vediamo un attimo con la grafica ecco perché vedete che nel borsino della grafica sono entrati dei nuovi nomi in particolare sto parlando di due laterali uno è il belga Truffart 2001 che gioca nel Rennes e l'altro Anthony Robinson 97 che gioca nel Fulham e poi c'è sempre Jesus Vázquez che lo vediamo lì in alto classe 2003 del Valencia. Allora sui laterali ammessano un concesso che riescono a fare un'operazione per far uscire Gosens. Infatti ho una domanda proprio questa chi è sinistra dell'Inter se a gennaio dovesse partire Gosens? Ecco allora questi sono i tre nomi però oggi è stato scritto molto su Truffart ho avuto modo di lavorarci ma il giocatore in verità non è seguito dall'Inter ma è stato proposto all'Inter e quindi io non lo terrei tanto in considerazione anche se ci sono delle buone relazioni dal punto di vista tecnico il giocatore tra lui e Robinson che abbiamo visto in grafica Robinson che lo vediamo anche al Mondiale con gli Stati Uniti è un giocatore considerato più pronto più esperto eccetera. Ha il contratto che scade nel 2024 e quindi dal punto di vista economico se uscisse Gosens sarebbe un'operazione da valutare quindi attenzione Robinson però io terrei sempre più alto Jesus Vasquez stiamo parlando di questo 2003 però perché c'era l'accordo anche su un prestito a pochissimi soldi col Valencia non gioca mai è un diritto di riscatto piuttosto basso però se non parte Gosens allora poi e ne riparliamo e Vasquez potrebbe essere una cosa della prossima stagione con un investimento poi Barbara sostanzialmente ecco io credo che poi di Marco Sturam non ci sono aggiornamenti cioè ad oggi forse è più facile ipotizzare che se l'Inter non riesce a chiuderlo e lui arriva a fine stagione possa farlo quest'estate però volevo coinvolgere Michele su questa valutazione perché quello che capiamo purtroppo purtroppo anche seguendo il fil rouge dei rinnovi lasciamo perdere Skriniar che siamo ancora in attesa di risposte eccetera eccetera però cosa abbiamo saputo ed è anche lì una notizia che sembra un po' strana che l'Inter quasi clamorosamente ha intenzione di fare una proposta di rinnovo a De Frai qualche giorno fa hanno chiesto a Marotta sui rinnovi perché l'Inter ha tanti giocatori scadenza soprattutto per una questione anagrafica ha detto che non potranno essere rinnovati tutti però tu hai visto ci abbiamo lavorato anche stasera abbiamo avuto una conferma che è vero che faranno una proposta a De Frai che a me insomma lascia un po' perplesso perché questo è il secondo anno che non sta avendo delle prestazioni diciamo alla De Frai che due anni fa fu premiato miglior difensore del campionato ma negli ultimi due anni questo è il secondo anno che lascia a desiderare però non esattamente un teenager 30 anni 92 zero minutaggio ai mondiali con l'Olanda però questa proposta di rinnovo l'Inter sui difensori qualcosa Paolo farà quest'estate no dico questo sicuro però Maurizio ci fa capire molto di come l'Inter abbia le mani legate e non possa spendere perché fanno la proposta a De Frai perché in pratica non hanno la possibilità economica di andare sul mercato e fare un'operazione da 15-20 milioni come ha fatto il Napoli con Kim e prendere un giovane ma non solo proprio credo che sia un accordo con l'UEFA che non può fare la campagna di 15 superiore alle eccezioni esattamente tu devi vendere facciamo un'ipotesi proprio classica Danfris e l'altro laterale tedesco e Gosens dall'altro lato se vendi quelli puoi comprare sì però ragazzi il settlement da crimine l'hanno firmato Inter Milan, Juve e Roma con la UEFA cioè siccome noi appena parliamo dell'Inter sembra che l'Inter non si può muovere se prendi il giovane il giovane ti può costare meno cioè l'operazione di Chetelare che era un giovane molto promettente costa meno in un anno meno di Lukaku quindi sono anche scelte non è sempre detto che devrai costa meno perché a zero però questa volontà di rinnovare cioè devrai gli devi dare 4 milioni magari se prendi un giovane il problema è trovare il giovane promettente che ti dà garanzia di comandare la difesa però questa volontà di rinnovare De Frey secondo me nasce un po' perplessi e fa un po' pensare però Gianni questa cosa è abbastanza comune perché lavorando sul mercato si capisce che è una società che paradossalmente non ha così dei lacciuali stretti come il Milan però ecco piccola parentesi la chiudiamo subito cioè si capisce che ad oggi non hanno neanche la volontà di lavorare su Ziyech come viene continuamente scritto perché si arrendono di fronte all'ingaggio del giocatore quindi anche il Milan praticamente rischia mi chiedevano di Ziyech il Milan ha almeno 2-3 giocatori in uscita gennaio sicuri beh Baccaio Copotenziale che è un prestito quindi di fatto gli rinunci solo l'ingaggio certo e poi bisogna vedere in prestito ad lì questo è diciamo la voce più ricorrente certo ci sarebbe non so come finirà perché lui prende 6 milioni alla stessa cifra ci sarebbe mezza stagione fino a giugno sarebbero 3 e di quel giocatore che adesso stiamo vedendo fare un mondiale straordinario e che gioca quasi mai pochissimo anche col cambio allenatore nel Chelsea ci sarebbe un grande bisogno sembra che lui stia parlando con Lukaku per capire come uscirsene fare un'operazione simile poi da vedere se il Milan come dice Paolo è d'accordo c'è da dire che c'è un grande rapporto col Chelsea fra Milan e Chelsea ci sono degli rapporti buoni sicuramente il Milan potenzialmente segue anche altri giocatori come l'Oftus Czech per esempio Barbara c'era qualche domanda allora sempre inerente all'Inter buonasera secondo me l'Inter a gennaio sarà ceduta al fondo PIF l'acquisizione l'annunceranno in occasione della finale di Supercoppa Italia un saluto a tutti da Nana ciao Nana ah beh Michele insomma che poi il fondo PIF hai detto magari hai detto magari il fondo PIF è proprietario del Newcastle e dell'Al Nasra certo cioè quindi l'Inter passerebbe dalla galassia cinese alla galassia saudita però le ultime le ultime dichiarazioni dei manager diciamo del fondo del fondo PIF sono diverse cioè sono noi abbiamo preso il Newcastle perché l'abbiamo preso a 300 e faremo i soldi lo faremo valere 10 volte tanto il Manchester United è in vendita ormai ufficialmente come il Liverpool hanno pagato 700 milioni di sterline chiedono 8 miliardi all'Inter come fai a fare questa operazione in breve tempo è molto difficile quindi io non ho conferme da questo punto di vista la vedo più come un desiderio di tanti ma ad oggi non ci sono poi passiamo a Napoli vogliamo parlare di Onana un secondo ma è vera la voce su un'eventuale cessione al Barcellona di Onana per 30 milioni e vabbè ma poi chi para all'Inter concettualmente no sì perché è stato scritto in settimana ma in tal caso l'Inter prenderebbe Carne Secchi si se ne è parlato che è bravissimo che è bravissimo allora Carne Secchi è una valutazione da 20 milioni e io credo che lui potenzialmente sia in orbita Juve se non dovessero esercitare l'opzione Marcello dimmi se sbaglio l'opzione al 2025 con Scesni e lui è un potenziale portiere sul mercato come Vicario dell'Empoli in questo caso in questo caso su Vicario ci sarebbe più il Napoli anche lì se non rinnova Meretta perché preferiscono so che giuntoli preferisce Vicario a Carne Secchi per ragioni sue Marcello sì assolutamente anche io penso che il primo obiettivo sia Carne Secchi in alternativa a Vicario ma proprio per quello che dicevi adesso te Napoli è interessato a Vicario quindi la Juve andrebbe dritta su Carne Secchi che sta seguendo già dai tempi in cui lui era all'Atalanta certo giocava all'Atalanta in primavera vi volevo dare solo un'informazione per quello che riguarda la Juventus stasera stasera al ristorante del centro di Torino Agnelli Nedved e Arrivabene hanno incontrato Allegri ah beh insomma casualmente eh è stato un incontro casuale sicuramente non penso è doveroso credo incontrarsi direi di no direi casuale per niente penso proprio incontrarsi nel campo trovo doveroso volevo dare alcuni movimenti del Napoli ma non ci abbiamo più tempo siamo incontro siamo incontro grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.